E' stato l'incontro sul tema Allenare la mente a inaugurare a Palazzo Lascaris il ciclo Le vie del benessere, promosso dagli Stati Generali dello Sport e del Benessere del Consiglio Regionale del Piemonte, in collaborazione con l'Associazione Cromie Vivere a Colori. Obiettivo delle conferenze, promuovere il benessere fisico e mentale, parlare di prevenzione, stimolare un corretto esercizio fisico, dare suggerimenti su come organizzare al meglio il tempo libero. Tutti temi cruciali in una società come la nostra, dove si vive sempre più a lungo e la qualità della vita insieme alla salute, è diventato un valore insostituibile e un bene rinunciabile. Primo appuntamento, quello con la salute della nostra mente, che va allenata a tutte le età, perché è anche da lei, che dipendono il benessere del nostro corpo e della nostra emotività. Il cervello, per invecchiare in salute e contrastare il fisiologico decadimento, ha bisogno, specie dopo i 50 anni, di stimoli cognitivi sempre nuovi e di difficoltà crescente. Bastano pochi minuti al giorno con eserciti semplici da fare mentre si cammina, mentre si guarda la televisione o si legge un libro. Ci si allena sottoponendosi a degli esercizi, che tipicamente sono carte e matita, ma possono essere anche esercizi computerizzati, e importanti che coinvolgano tutte le funzioni mentali, quindi l'attenzione, la memoria, il ragionamento, il linguaggio, la pianificazione, e anche il pensiero laterale e il pensiero creativo. Non serve a nulla fare un allenamento intensivo, bisogna allenare il cervello 5-10 minuti al giorno, esattamente come si fa quando si va in palestra e si allena il nostro corpo. Un esercizio potrebbe essere, ascoltando il telegiornale, contare tutte le volte in cui il giornalista nomina la parola comunità europea, per esempio. Oppure un esercizio potrebbe essere, mentre andiamo a casa, contare tutti i numeri dispari che ci sono nelle targhe delle automobili che incrociamo. Gli incontri e le vie del benessere sono in programma con cadenze mensile fino a dicembre 2019. Si svolgeranno il mercoledì sera alle 18.30 nella Sala Viglione di Palazzo Lascaris. L'ingresso è gratuito fino all'esaurimento posti. Informazioni e prenotazioni all'indirizzo mail cromie-cromie.biz.